Era diventato l'incubo delle impiegate e dei servizi sociali, minacce, insulti, blitz negli uffici e in un caso si era persino presentato in comune con un coltello da cucina. Nego è finito un 36enne di origini campane, residente a Carattebrianza, raggiunto da un'ordinanza di divieto di avvicinamento alle persone offese emesse dal GIP di Monza. Atti persecutori, l'accusa nei suoi confronti. Dopo essere stato allontanato dalla moglie e i quattro figli per maltrattamenti, voleva convincere gli assistenti sociali a farlo tornare dalla sua famiglia. Blitz negli uffici, urla, minaccia, appostamenti, porte sbattute, pugni sul tavolo. In un caso l'uomo era addirittura arrivato a presentarsi in comune con un coltello da cucina, tanto da terrorizzare le quattro impiegate che in più occasioni avevano chiesto l'intervento dei militari. La misura cautelare è stata eseguita nelle scorse ore, ma non è finita qui. Durante una perquisizione domiciliare eseguita dai carabinieri, durante la quale sono state trovate carte di pagamento intestate all'ex compagna, l'uomo ha dato in escandescenza. Prima ha cercato di vietare l'ingresso ai militari. A casa mia non è entrata nemmeno se viene l'esercito, poi li ha aggrediti, tanto che alla fine è stato arrestato. Nel fine settimana i carabinieri hanno anche messo a segno un servizio straordinario di controllo sulle strade di Limbiate. Identificate 35 persone e 22 veicoli con denunce e sequestro di droga. I militari sono stati impegnati in particolare in prossimità del parco delle Groane e nei luoghi della Movida. Durante i controlli due uomini a bordo di una 3 hanno abbandonato il veicolo scappando a piedi. Sul mese è stato trovato un tirapugni e 50 grammi di sostanza stupefacente avvolta in 11 involucri. Denunciato infine a Besana Brianzo un 44enne sorpreso al volante dopo aver alzato il gomito. L'ha certamente scattato dopo un incidente causato proprio dall'uomo che al volante di un aeronuclio aveva omesso di dare precedenza a un incrocio. Gli è stata anche ritirata la patente e era recidivo alla guida in stato di ebrezza. Gli è stata anche ritirata la patente.